Il tasso di tumori a Brindisi nell'area SIN, sito di interesse nazionale per le bonifiche, è più alto rispetto a quello degli altri comuni della provincia e della regione, con eccessi sia fra gli uomini più 5% sia fra le donne più 9%. Tanto emerge dal nuovo rapporto sui tumori nell'asla di Brindisi. In genere le neoplasie più diffuse tra gli uomini sono quelle a prostata, polmone, vescica, colon, retto e zona testa-collo. Di queste due, colon, retto e polmone, sono frequenti anche fra le donne, per le quali tra le 5 neoplasie più diffuse troviamo anche quelle alla tiroide, oltre a quelle tipicamente femminili ad utero e mammella. In genere nel periodo 2015-2019 ogni anno sono state registrate 2421 nuove diagnosi di tumore, il 53% fra gli uomini, il 47% fra le donne. Nel 12% dei casi si tratta di linfomi, leucemie, mielomi. Infine nell'area SIN i tumori infantili appaiono inferiori rispetto al dato provinciale di circa il 13%. Tuttavia il dato per la sua esiguità è piuttosto variabile. Questo conferma, commenta il sindaco Rossi, che Brindisi vive una fase difficile, che i temi della trasformazione ecologica, dell'abbattimento e degli inquinanti sono di strettissima attualità e confermano che la nostra richiesta al governo di puntare sulle rinnovabili è necessaria. Lo dicono i dati che sono inoppugnabili, non sono i dati e le idee del sindaco Riccardo Rossi o di quella parte politica piuttosto che di quell'altra. Sono dati su cui tutti si devono confrontare. Il diritto alla salute non può essere negato a nessuno, tantomeno per questioni ovviamente relative ad attività industriali, quindi anche al profitto.